Ancora un esposto è inviato alla Procura della Repubblica di Arezzo per chiedere chiarezza sui contagi e sui decessi degli anziani ospiti della Casa di Riposo di Montevarchi. A presentarlo è stato codici Centro Diritti per il Cittadino di Roma, associazione impegnata ad affermare, promuovere e tutelare i diritti dei cittadini, con particolare riferimento alle persone più indifese ed emarginate. Riteniamo necessario, spiega l'Avvocato Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici, accertare se nelle strutture sono stati rispettati protocolli e convenzioni per la cura delle infezioni da Covid-19, se le RSA erano dotate di un efficace ed efficiente sistema di risk management, se questa figura è stata affidata a professionisti che non potevano entrare in conflitto con incarichi già rivestiti nell'ambito della struttura o del gruppo di appartenenza, se i competenti servizi dell'ASL hanno ricevuto il piano per la gestione del rischio clinico da parte delle strutture, se la documentazione e valutazione rischi è stata aggiornata nella parte che riguarda il rischio biologico ed infine quali provvedimenti conseguenziali hanno adottato il responsabile del servizio prevenzione e protezione, la RLA ed il medico competente. Abbiamo inoltre chiesto alle procure di acquisire le cartelle cliniche delle persone decedute, bisogna far luce, conclude, su quanto accaduto ed invitiamo i familiari degli anziani ospiti a contattarci, siamo pronti a fornire il nostro supporto legale affinché venga fatta chiarezza. L'inchiesta sui decessi nell'RSA del Valdarno, 19 le vittime a Montevarchi, 12 invece a Bucine, è già al centro di un fascicolo aperto dalla procura di Arezzo con ipotesi di reato contro ignoti, di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose plurime e violazione alle norme sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. Le indagini sono state affidate al NAS dei Carabinieri di Firenze.